Sicuramente c'è una cosa che è certa nella mia vita che non farò la 100 km di Imola di quest'anno, quindi assolutamente non mi vedrete ai nastri di partenza, per di più è il 26 maggio. 23 maggio, 22, 22. Devo trovare qualche gara da fare in quei giorni per avere un'altra scusa per non andarci, però no, proprio non sono le mie gare. Per l'esperimento che dobbiamo fare oggi, tutte queste scarpe Ockham in realtà non ci servono, ci bastano solamente tre scatole e di conseguenza mi conviene metterle via. L'esperimento è abbastanza semplice, in una scatola ci sono due scarpe con fibre di carbonio, in una seconda scatola ci sono due scarpe senza fibre di carbonio, in una terza scatola ci sono due scarpe, una con fibre di carbonio e una senza fibre di carbonio. Facciamo per esempio l'ipotesi che ci siano una Carbon X 2 e una Clifton Edge, ma in realtà ne potremmo scegliere molte altre, il mio coniglio mi sta suggerendo che avrebbe voluto aprire altre scarpe. La domanda che vi pongo è se dopo aver aperto la prima scatola trovo una scarpa con fibra di carbonio, qual è la probabilità che nella stessa scatola ci sia una scarpa ancora con fibra di carbonio? Credo che almeno il 50% delle persone iscritte al canale non sappia dare una risposta corretta, sono davvero però curioso di sapere cosa ne pensate. Che poi non c'è molto da pensare perché in realtà si tratta solamente dell'applicazione di un teorema, il famoso teorema di Bayes con il quale si calcolano le probabilità. Oggi però sul canale vi parliamo del confronto di due scarpe con fibra di carbonio, le Carbon X 2 e le Rocket X, scarpe che sono state lanciate una a fine 2020, l'altra ad inizio 2021 e delle quali abbiamo già fatto una recensione qui sul canale nei giorni scorsi. Molti ci hanno chiesto quali delle due scarpe scegliere, ovviamente dipende un po' dai gusti personali. Ho raccontato assieme ad Andrea nei giorni scorsi, sull'altro canale e vi metto un link qua sopra, quale possa essere la ragione per scegliere un paio di scarpe veloci, anche se siete tra virgolette dei tapascioni, ma la sintesi estrema si può ricondurre al fatto che le Carbon X 2 sono scarpe per chi vuole correre più a lungo e correre velocemente, mentre le Rocket X sono scarpe che vengono utilizzate per chi è più interessato a correre in pista, per chi vuole avere un miglior contatto al terreno, correre più velocemente e poter sfruttare al massimo la tecnologia OCA. Lascio quindi la parola ad Andrea che dal mio giardino di casa ci ha raccontato come queste due scarpe si differenziano. Vediamo cosa ci ha detto, nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e non dimenticatevi di rispondere qua sotto al quesito che vi ho posto. Ciao, alla prossima! Andrea, mi sono messo gli occhiali perché oggi dobbiamo fare un confronto da ritorno al futuro tra le Carbon X 2 e le Rocket X. Cosa ne pensi di queste due scarpe? Sono molto simili, ma comunque diverse, diciamo. Sono due scarpe che danno piacere di corsa comunque tutte e due, mi sono piaciute. Sono delle scarpe che consiglierei. Mi tolgo gli occhiali perché comunque effettivamente non ti vedo molto bene. A livello di confronto, di solito confrontiamo un po' l'armonia della scarpa. Per quanto riguarda la Tomaya, cosa ne pensi? Qual è secondo te la migliore? Allora, come Tomaya secondo me nettamente meglio no, ma meglio comunque la Carbon X 2. È comunque più leggera e sembra quasi più minimal che gli dà con la conformazione da scarpa racing e comunque da scarpa da livello top di questa marca. È sicuramente più curata. A livello di comfort, cosa dici? Sono comunque tutte e due scarpe molto comode oppure no? Allora, assolutamente sono due scarpe comode. Non sono comodissime. A me viene in mente la Vaporfly 4%, secondo me era la scarpa più comoda in assoluto. Loro si assomigliano molto alle Next, forse un attimino più durine, ma sono comunque molto comode rispetto a una scarpa per assurdo da lento. Queste le sento anche più comode. E a livello di intersuola abbiamo visto che più o meno hanno un'intersuola abbastanza simile, cosa ne dici? Guarda, l'intersuola è molto simile, l'area di appoggio del piede sull'intersuola è sicuramente più ampia sulla Carbon X e questo sicuramente gli dà un po' più di stabilità ad atleti magari di un peso più importante o iperpronatori. E per quanto riguarda le distanze, cosa ne pensi? Una è ovviamente pensata per chi corre lunghe distanze, mentre l'altra è un po' più, come raccontavi nella recensione, per distanze un po' minori. Cosa dici? Guarda, sicuramente io farei una distinzione di peso, sotto i 70 kg utilizzerei per la maratona anche la Carbon Rocket X, mentre per i pesi un attimino più importanti utilizzerei una Carbon X per fare le maratone. Sì, in generale diciamo un po' più racing per gare un po' più corte la Rocket X e per gare un pochino più lunghe la Carbon X, però se dovessi fare proprio una divisione la utilizzerei per pesi medio leggeri e medio pesanti. E a livello di ritmi cosa dici? Ma a livello di ritmi fondamentalmente io che ne peso 65-64 kg ti dico che non ho trovato una grossissima differenza. La grossa differenza forse la fa a fine gara, la Scarpola è un attimino più comoda e forse lì vince secondo me la Carbon X. È anche un attimino più ingombrante, quindi è da fare un po' la valutazione, sarebbe da provarle tutte e due a pari condizioni in maratona. Forse però lo stesso anche io prenderò una Carbon X per fare la maratona. Purtroppo non riusciamo a vederci in pista, spero che questo succeda abbastanza presto, anche così facciamo un confronto con Runscribe tra le due. Ma a livello di spinta ritieni che siano equivalenti oppure che invece le Rocket X, proprio per il fatto che abbiano un peso inferiore, siano tra virgolette migliori? Ecco, guarda, in pista preferisco le Rocket X perché sono comunque più filanti, come scarpa sembra più piccola e quindi mi dà anche un'idea di riuscire a correrci meglio in pista e a riuscire a spingerla meglio. La Carbon X è una scarpa diciamo da maratona, da mezza maratona dove non devi spingere troppo la scarpa ma ti devi far portarla all'arrivo non stancandoti. Sei arrivato alla conclusione, tra un mese ci sarà il campionato italiano sui 100 km, sei arrivato alla conclusione che tra l'altro sponsorizzato da Hoka, sei arrivato alla conclusione che le Carbon X 2 sono le scarpe suggerite? Sono arrivato alla conclusione che io non correrò la 100 km ma non so per chi possono essere la scarpa giusta, secondo me può essere una scarpa da utilizzare anche perché sono 100 km e avrò anche la possibilità di cambiarmi tranquillamente, credo potrei fare la prima parte con loro, adesso non saprei dire la scelta qual è, è sicuramente una scarpa che si può prendere in considerazione, l'altra scarpa è la Clifton secondo me. Diciamo per chi deve giocarsi le prime posizioni assolutamente userei una Carbon X. Tieni conto che per iscriversi al campionato italiano, probabilmente lo sai, serve come tempo 2,55 in maratona? Sì, 2,55 in maratona che dopo però su una 100 km è comunque un tempo importante, sì, volendo sì, forse sì, correrei con le Carbon X, a quel punto direi che la scarpa è un po' per tutti in quel caso. Beh, purtroppo non ci potremmo essere, sto facendoci un pensierino, però non credo di essere in grado di essere pronto per il 23 di maggio. Beh, di chilometri ne fai, il tempo adesso è stretto, ci devi pensare un po' prima, però come esperienza al massimo ti puoi ritirare a metà gara, tanto non è che devi arrivare a faenza. Mi posso ritirare ogni 5 km perché comunque... Esatto, io sicuramente, cioè è una cosa che è certa nella mia vita che non farò la 100 km di Imola di quest'anno, quindi assolutamente non mi vedrete ai nastri di partenza, per di più è il 26 maggio. 23, 23. 23 maggio, 22, 22. Devo trovare qualche gara da fare in quei giorni per avere un'altra scusa per non andarci, però no, proprio non so le mie gare, però io l'avrei corsa con le Carbon X, per dire. Al contrario, che forse preferisco le Next, ma comunque l'avrei corsa con le Carbon X questa perché mi sembra una scarpa un pochino più comoda per davvero le lunghe lunghe distanze. Invece a livello di battistrada, il grip, quali delle due suggerisci? Sappiamo che fondamentalmente sono scarpe ottime in entrambi i casi, ma che comunque non sono suggerite per correre lo sterrato. No, infatti forse è un pochino meglio il grip della Carbon X perché hanno fatto una mescola un pochino più morbida, quindi diciamo che forse grippa meglio la Carbon X, sicuramente dura di più la Rocket X perché invece nei punti di appoggio gli ha messo una mescola un pochino più dura e importante. Va bene, grazie Andrea, adesso cerchiamo di capire a quali gare partecipare, sono curioso di vederti in gara con queste Rocket X. Vediamo adesso, anche perché in pista non le potrò più usare, le userò in allenamento sicuramente, ma in gara no, quindi vediamo. Grazie Andrea, adesso noi andiamo a averci un piccolo coffee, ovviamente meglio se offerto così avrete altre recensioni, spero di vederti presto. Anch'io colgo l'occasione per augurarvi una buona giornata e se qualcuno ancora ha voglia di offrirci qualche caffè ben venga. Grazie, ciao.